Saviano è il più grande paraculo che esiste sulla faccia della terra e sa che li porta visibilità, ma la coppia Fedel-Saviano è una coppia imbarazzante. Non ho paura di nulla, non mi emoziono su nulla. Questo da quando sono nato, in televisione... A me nella mia vita è incontrato chiunque al mondo, attori, chiunque, pure Brad Pitt, David Bowie, ho fatto serata con Tupac. Curulandia! Curulandia ovviamente! Curulandia! Dove l'avete preso questo? Ma non me ne frega niente. Curulandia! Ascolta Curulandia! Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Curulandia. Oggi c'è un grande ritorno anche. È la prima volta che c'è un ospite per la seconda. Ma io ho fatto i programmi più importanti d'Italia, anche i programmi più cult, dove chiamano una volta un ospite e mi chiamano trenta volte. Perché non è che te le puoi intervistare una volta sola, perché ci sono un sacco di cose da raccontare. Perché ogni sei mesi succede tot. Infatti sto facendo una roba molto importante sulla mia vita che non posso dire, perché sennò ho una penale. Dai svela qualcosa. No, non posso dirla, ho una penale gravissima. La stanno scrivendo già da due anni. Insomma, dobbiamo incominciare a registrare ora. Andrà in onda nel 2025. Ma ogni volta aggiungono qualcosa, perché ogni volta succede qualcosa. Vero, vero, vero. Comunque, l'avete già capito. Diamo il bentornato a Fabrizio Corona. Ciao Fabrizio Corona. Adesso oggi vi sono anche la prima puntata dove sono da solo e salutiamo anche Valtteri e Roberto che oggi non sono potuti essere presenti. Li salutiamo i ragazzi. Meglio così. Preferisco essere da solo con te. Senti Fabri, voglio partire con la prima domanda riguardo Dillinger. Insomma, voglio capire il motivo per cui ti sei lanciato su questa nuova... Io sono abituato a raccontare la verità, sempre. Perché poi ho 50 anni e sono stanco. Vengo contattato da un editore, di cui non posso fare il nome, è importante, che mi dice voglio fare una testata giornalistica per dare visibilità al mio progetto editoriale regionale, è importante. Quindi ho bisogno di un progetto del sito, di un sito. Questo gli facciamo un progetto di un sito, glielo vendiamo una cifra abbastanza alta come società Atena. Bene, lui è contento. A questo punto dice, senti, ma me lo metti su un service editoriale e ti faccio un contratto per un anno, così testiamo come va, visto che ormai la pubblicità si sposta, tutto quanto, sui media. E io gli dico, va bene, faccio un service per dei giornalisti. Succede che, perché poi è inutile dire sono un bravo imprenditore, sono capace nella comunicazione e poi ci arriveremo nei discorsi successivi. Succede che, botta di culo, perché nella vita è solo botta di culo, e ci ritorneremo dopo nei discorsi, nel momento in cui parte Dillinger, io mi sveglio una mattina, il mio amico direttore di MoMAG con cui faccio le riunioni tutti i mercoledì giornalistiche, mi sveglia, io mi sveglio di solito alle 10, perché arriva la cameriera che mi sveglia insieme al gatto, e tutto rincoglionito perché prendo le gocce per dormire, mi guarda e mi fa, guarda che hanno indagato fagioli. Dopo mezz'ora mi rendo conto che hanno indagato fagioli su un'inchiesta che avevo fatto io quattro mesi prima. Accendo il cervello e parto con tutta quella comunicazione e diventa la storia più importante d'Italia. E ovviamente la faccio su Dillinger. Dillinger vola, noi facciamo 200.000 follower in un mese, il sito che è una testata giornalistica arriva a fare 3 milioni di utenti al giorno, ora che uscirà la prossima classifica AudiWeb, siamo in Italia a quarti dopo Corriere della Sera Repubblica. Veramente, wow! Abbiamo una pagina Instagram che sale, arriverà sicuramente a un milione di follower in un anno, e facciamo 3 milioni di dashboard, quindi diventa un progetto economico-finanziario impressionante. Allora io mi rendo conto, dico ma cazzo, ma glielo ho dato a questi? Ma come faccio ora? Come faccio ora a fare questa roba del genere? Anche perché ti apro una parentesi, perché qua parliamo di affari, esiste una pagina Instagram, ma questo lo potrai fare col tempo anche col tuo podcast, che si chiama Cronache di Spogliatoio, una delle tante. L'ho fatta bene, è curata, è una bella pagina, che ha 1.300.000 follower, nata nel 2019, che il gruppo Gedi, che è il gruppo finanziario più importante, ha pagato il 10% 500.000 euro. Wow! Gruppo Gedi, eh? Gruppo Gedi è la famiglia Agnelli, la stampa e tutta quella roba lì. Quindi è un valore. Quindi faccio 2, 3, 4 giri e alla fine mi rimpossesso del sito, pagando anche. Ok. Oggi il sito è mio. Al 100%. Al 100%. Mio e della società Terra. Chiaro. Mio ed è un progetto editoriale di sviluppo molto molto ampio. io lo voglio portare fino al 2025 a dei grossi numeri, spingendo e tornando a fare il mio lavoro, e poi venderlo con un'operazione finanziaria. Però devo dire che è stata una botta di culo legata a poi un'operazione finanziaria e una cattiveria nel recupero del sito che non era mio. Sicuramente il caso Fagioli ti ha aiutato alla crescita esponenziale di lì. Fagioli, Zaniolo, in quel momento lì abbiamo preso 200.000 follower su Instagram, viralità incredibile. Beh, in quel momento sei stato... Facevamo 600.000 visualizzazioni alle storie, cioè ci sono vari momenti di varie inchieste nazionali, come ai tempi, tu non l'hai seguita, non l'hai di cui, ma non è una roba da trattare da Gurulandia. Anche tutta la parte di Messina Danaro, che noi abbiamo fatto oggi Letti, ci aveva lanciato nell'Olimpo. Poi abbiamo avuto una prequisizione della DDA di 14 persone. Però diciamo che negli ultimi anni tutte le più importanti inchieste le ho fatte tutte io, le abbiamo fatte tutte noi, eccetto l'ultima della Ferragni, che noi non ci occupiamo di quei personaggi lì, che ha fatto l'Ucarelli, però le abbiamo fatte tutte noi. Vabbè, poi ci arriviamo anche al caso Ferrani, perché comunque ho qualcosa da chiederti. Nel momento... Ovviamente te... Si conosce Fabrizio Corona, sei stato un mago nel creare un hype pazzesco e a sfruttare tutto quello che è stato il caso scommesso a tuo vantaggio, no? Avevi poi annunciato che avevi tantissimi altri nomi di calciatori che però poi non sono mai usciti. No, poi ne avevamo preparati alcuni, ok, che dovevamo fare in una puntata di Avanti Popolo della De Girolamo. Apro e chiedo le apparenze. Ieri è stato chiuso il programma. Il programma ha fatto... Hanno fatto 15 puntate il programma della De Girolamo. 14 puntate hanno fatto l'1,8 di Cher. C'è roba che se noi andiamo con Gurulandia su Rai3 facciamo molto di più. La mia puntata, la mia... Quanto? Ha fatto il 12% di Cher. Solo che poi si sono spaventati, era in diretta, avevamo degli accordi, era la Rai e mi hanno tagliato 40 minuti prima dove era il momento di fare i nomi che dovevamo fare dopo. Però vedi, c'è la scena finale, c'è un video sulle pagine di Instagram che ha fatto 5 milioni dove lei mi dice ma è finito, è finito? Una volta quando successe la roba di Hilary Blasi spaccai il camerino a pugni. Lì ormai ho 50 anni, mi alzo, faccio finta di niente e poi faccio un post. E ame. E allora abbiamo deciso di farli, i nomi ci sono, ma li abbiamo decisi fare per evitare querele. Abbiamo una piattaforma su un sito inglese ed è un sito con un accesso a pagamento attraverso un broadcaster che si chiama EgoTV e abbiamo fatto uno speciale sul calcio molto bello però nel momento in cui poi tu accedi abbiamo fatto 3 milioni di utenti e devi pagare, quindi i nomi rimangono lì, te li devi andare a vedere lì. Sempre il solito... Sempre soldi. Avaro. Sempre Avaro. Avaro. Senti, hai citato Ilari Blasi che tra l'altro ti ha citato nel suo film, documentario, come lo chiamiamo, non lo so. Diciamo che non mi ha citato nel suo documentario, mi ha chiesto scusa, ha chiesto scusa alla stampa italiana perché lei durante una puntata, secondo me fuori di testa, verissimo, ha incominciato a insultare il Corriere della Sera, la Repubblica, la stampa, un po' tutti quanti i giornali. E poi alla fine, dopo anni e anni e anni, ha dovuto ammettere, anche per convenienza, che avevo ragione, cioè, quando io andavo a dire che Totti la tradiva sempre, il fatto di Flavemento, cioè, non è che ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia che era vera prima del matrimonio, io stavo facendo semplicemente il mio lavoro ed evidenziando delle cose, quindi per anni. Ora, questa cosa, quindi, lei l'ha capita, si è trovata nelle stesse problematiche anche lei e chiedere scusa a Corona da un lato vuol dire chiedere scusa, da un lato vuol dire dare ragione e quindi, in una fase molto delicata, perché oggi vi spiego una cosa molto interessante, per questa puntata di Burunandia, avere ragione anche da un punto di vista di problematica civile, perché ora c'è un processo. Detto questo, Ilari mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni, a breve faremo un incontro, chiarificatore. Cosa succede adesso? C'è un processo. Mi chiamava la sua manager, che io conosco da 20 anni, che tra parentesi è da conosco da 25 anni, perché ai tempi lavorava con la demora anche lei, ed è una delle manager più importanti della televisione italiana, perché è la manager della Unzinger, della Tofanini, è una donna molto importante, molto forte, con un carattere molto particolare. Mi chiamava, mi chiamava, io ho appena fatto un video, ho detto, che rottura di coglione, che cazzo mi devi rompere. Insomma, tre, quattro volte, la quarta volta, non gli rispondo, mi diceva, Fabri, ma mi vuoi rispondere adesso io? E poi ha detto, dai, poi beviamoci. E io gli ho risposto, va bene, dai, vediamoci, beviamoci un caffè. Va bene, dai. Allora, detto questo, in questa fase qui, sulla fase di Hillary, c'è una questione molto importante, perché c'è un processo, ora, a settembre? Giusto? Un processo, da cui passano anche delle denunce penali, di furto, dei Rolex, delle borse, è un processo che deciderà, tutto il patrimonio dei totti, vuol dire la casa a chi va, stiamo parlando di un patrimonio, stramilionario, e anche un mantenimento, giusto? Perché parliamo di un matrimonio di 22 anni, che sono stati più insieme. La storia te la faccio in brevissima, perché è troppo complessa, parte dall'annuncio della separazione, partiamo da lì, perché se no devi tornare troppo indietro, fino all'intervista del Corriere della Sera di Totti, di un anno fa, in cui lui dichiara, che sta con Noemi Bocchi, che l'ha conosciuta dopo i tradimenti di Hillary, che ha scoperto i tradimenti di Hillary, che è stata Hillary prima a tradire, che gli ha rubato i Roles, che è quella roba lì, e cita un ragazzo. Tra pareti si mi ha tradito con uno, non mi aspettavo, sono rimasta scioccata, perché non c'entrava niente con la sua vita. Questo ragazzo è il ragazzo del caffè. Te la faccio in brev, quindi poi litigi, poi lei sfrutta economicamente, ed è stata molto brava attraverso la sua manager, la tragedia, quello che ho sempre fatto io, quindi problematica, ha fatto i soldi col libro, ieri c'è stata la presentazione, ha fatto i soldi con la serie, però oggi si ritrova in mezzo a un processo, dove ci sono delle sorti importanti. Notizia di dieci giorni fa, questo ragazzo, che è un ragazzo molto schivo, che è un ragazzo del caffè, dopo un anno e mezzo, rilascia un'intervista al messaggero. Senza prendere una lira. Non è vero questo, almeno questo è quello che hai detto. Senza prendere una lira dal messaggero. Ah, ok. Dopodiché compare nella lista dei testimoni di Totti. Esatto. Ah, verissimo, se avete guardato l'ultima intervista di Rali Brasi, dove lei non è più allegra come era una volta, cioè non è più cacciata, c'è simpatica, romanesca, così, è molto triste, parla di amore, sulla risposta al perché questa persona qui ha rilasciato queste dichiarazioni, non lo accusa lei, non si arrabbia con lui, ma dice una cosa molto importante, dice io lo ringrazio, perché lui, e da una data, nel mese di luglio, da un locale a Ronin, da un dettaglio preciso, alla festa della mia manager, quindi dove erano presenti un tot di persone, che sono come testimoni, mi ha raccontato che è A, B, C e D, che tot di Mitra Diva. Questa festa è a luglio, nella dichiarazione di Jovino, il ragazzo del caffè, lui dichiara che stanno insieme da luglio, prima di Noemi, quindi le due, è l'unico modo che aveva per difendersi processualmente, perché se questo ragazzo del caffè, va a processo e dice, sai io andavo con Ilari da luglio, lui non andava con Noemi, il processo è vinto, lei si deve difendere, tra parentesi pare che questo ragazzo, come è uscito sul sito di Dilling & News, abbia preso dei soldi da Totti, per rilasciare queste dichiarazioni. Ma questo, chi lo dice? Da dove si evince questa cosa? Se una testata, ripeto, Dilling era una testata giornalistica, registrata al Tribunale di Milano. Ok. Ok. Punto. Vuol dire che hai delle responsabilità civili, legali, oggettive. Ok. Le fonti, per motivi giornalistici, non possono essere rivelate, però abbiamo delle prove. Ora bisogna vedere, poi noi diamo le notizie, punto. Poi chi vuole analizzare, analizza. Comunque lei ha un solo metodo per salvarsi. Che sarebbe? Chiamare meglio il processo. Poi ci sono anche tre figli di mezzo, quindi immagino... Ma i figli, i primi due, si fanno i cazzi loro. Cioè nel senso, i primi due, cioè il primo figlio, Cristian, che adesso va andato a giocare a Madrid, è padre dipendente, con un padre così, figurati a Roma, insomma, stiamo parlando di Totti. Chiaro. La figlia è padre, madre, perché insomma, Totti è Totti, ragazzi, cioè, non è che gli dico niente, si fanno i cazzi loro e si gestiono la situazione. Forse è quella piccola che ne subisce, però secondo me a loro non li tocca. Ok. Invece vogliamo parlare un attimo anche del caso Ferragni, Fedezpan, più che altro del caso Balocco. Allora, io credo che quando tu, e dicevo della botta di culo di prima, no? La storia della Ferragni, poi ce l'hanno raccontata in mille modi. Lei parte, e ovviamente c'è su tanti, è stata raccontata non nelle prime serie su Amazon, su tutto quello che è. Lei ha la fortuna di avere un fidanzato molto sveglio, molto bravo, che oggi fa l'imprenditore ed è sposato un altro influencer, cioè un ragazzo molto bravo, ha lavorato in marketing. E in quel periodo lì, che parliamo dal 2009, 2010, 2011, non c'erano Instagram, non c'era Facebook, c'erano queste problematiche, esistevano i blog. Andavano i blog, esistevano i blog. E lei aveva questo blog, si chiamava The Blog, funzionava. Da lì a poco a poco è cominciato, ma diciamo è stata la prima a utilizzare il blog a utilizzare l'immagine. Cioè, se ve la ricordate com'era, non era bellissima, non era particolare. Cosa c'aveva rispetto a tutti gli altri? Poco, niente. Timing, timing. Era il tempo giusto al momento giusto, con un fidanzato giusto e poi è successo qualcosa di giusto e crescendo, 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 succedono quelle cose che a caso ti succedono nella vita, ma perché è il tuo destino, ma non perché le programmi. Cioè, la madre, uscita poco tempo fa in un'intervista di tantissimo tempo fa, di 4-5 anni fa, dice, eh, mia figlia è stata portata a Harvard come esempio. Sì, ma non è che tu oggi nasci nel 2005 con un progetto editoriale e dici, io faccio questo, 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 questo e questo per arrivare lì. Non sei Yannick Sinner che a 15 anni ti fanno un'intervista e dici, voglio diventare il numero uno del mondo e ci arriva. Cioè, te a culo arriva a arrivare un influencer e poi pian piano cresci, 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 ti strutturi. Sicuramente la storia con Fedez, quando Fedez era Fedez, gli hai aiutato un certo tipo di mercato, ma poi è diventata quello che è. Il problema è che poi quando hai tutto questo potere e tutti questi soldi, diventi anche cattiva, cioè ti rendi conto che hai questo potere e questa, questa parola viene utilizzata, si chiama Ibris, si chiama in greco, si chiama è ubriacatura da potere. E la stessa roba te la faccio in breve che è successo a Salvini quando aveva avuto milioni e milioni di voti, stava per diventare presidente del consiglio prima della Meloni, poi va al papete e fa quella minchiata. Ok? Perché te hai bisogno di comunicare la beneficenza anche quando il cliente non te lo chiede? Non ne hai bisogno, perché tutto non ne hai bisogno. Secondo, non ci pensi per te leggerezza, terzo ti dici io sono la Ferrani faccio quel cazzo che voglio. Succede il patatrack, a catena si aprono un botto di robe e succede che quando una persona così si è strutturata e intelligente sa come reagire con la comunicazione e invece la post comunicazione l'ha sbagliata tutta quanta, il video, l'intervista, tutto il resto, hanno sbagliato tutto. Tu pensi sia un errore più suo o comunque di chi gli stava dietro? Suo e di chi gli stava dietro ma dopo quello che gli è stato dietro lei si è affidata a uno studio di comunicazione che ha completamente sbagliato perché comunque lì si è creato una botta di culo e oggi dovrebbe fare altro e poi si è affidato a uno studio legale. Questa è la vera problematica che si chiama, ti torno a notizia in esclusiva, si chiama Studio Bodio, è famosissimo a Milano, è uno vecchio studio che solo per entrare avrà pagato 350 mila euro perché sono avvocati storici gli avvocati costano un botto avvocati storici milanesi di grandi aziende che sono in struttura famosi per i patteggiamenti lei assume questo studio nel momento in cui ha la prima richiesta tra parentesi noi l'abbiamo quando scoppia la notizia Dillinger è il primo a dire il primo giorno che scoppia l'inchiesta verrà indagata per truffata aggravata ma va ma abbiamo messo la foto simile al Bannamarchi Stefania Movil non per affiancarla ma loro facevano una roba simile loro utilizzavano la televisione ok per vendendo lo sciogli pancia ti vendevano un prodotto non andiamo sulle robe dei maghi però sono state condannate per lo sciogli pancia si ok oppure una carta te dimagrisci o te ti tolgo il malocchio se te compri un Pandora e sai che il 10% un soldi mando in beneficenza l'oggetto criminis è identico pubblicità ingannevole essenzialmente è un reato ok e quindi lei si affianca a questo studio che è famoso per i patteggiamenti oggi però l'inchiesta si è allargata e diventa più problematica perché sono stati indagati il manager e sono stati indagati dei clienti in questo momento c'è solo il manager che lavora con lei ma siccome la procura di Milano è particolare e quando vuole fare del male delle persone fa del male alle persone specialmente ai ricchi e secondo me di mezzo c'è anche il governo Meloni perché loro poi hanno abusato di un certo tipo di comunicazione da ricchi contro Meloni facendo quelli di sinistra stai dicendo robe grosse con tutti sto dicendo cose intelligenti ma perché ormai abbiamo questo rapporto con tutti i diritti di sinistra i diritti LGBT i diritti degli immigrati Fedez al concerto del primo maggio e poi alle Meloni comunque anche se magari guadagna 300 mila euro l'anno e te sei milionaria è il presidente del consiglio amico mio e quando sei il presidente del consiglio incomincia ad allacciare relazioni che gente come i Ferragni non hanno idea di che relazioni hanno guardiamo Renzi tre anni il presidente del consiglio oggi guadagna 5 milioni di euro l'anno nessuno di voi sa quello che fa io lo so te lo sai allora lì l'ha fatto pagare ora qual è? che se le cose si incastrano e mettono un terzo che può essere la madre la sorella e dicono che perché poi loro ripetono lo stesso processo criminoso ovviamente siamo in questa fase loro sono innocenti quindi c'è la presunzione di innocenza certo per più anni per più casi diventa un unico disegno criminoso legato da un fil rouge e quindi non si passa soltanto dalla truffa gravata ma si passa dall'associazione delinquere finalizzata la truffa gravata che vuol dire una pena che va minimo dai 3 ai 6 anni poi vediamocela una che viene presa esempio così che ha una condanna di 3 anni secondo Fabrizio Corona come andrà a finire questa storia? secondo Fabrizio Corona la Ferragni è assolutamente finita e Fedez e la Ferragni si lasceranno sì non riuscirà a tirarsi su spero credo spero ovviamente che i soldi che ha guadagnato perché ha un grosso patrimonio li sappia gestire bene sicuramente la problematica sarà una che è abituata da 4 anni a fare weekend vacanze mettiamo i weekend siamo più stretti in scambio merci da portandosi dietro 30-40 persone quindi il costo del weekend si aggira dai 30 agli 80 noi lo sappiamo giriamo nei posti figli se vai in quegli alberghi con quelle robe di lusso e ti porti l'amica l'influencer quella lì e tutte quelle là è tutto pagato c'è robe varie e poi te le devi pagare anche se c'è 50 milioni 60 milioni da parte e non li guadagni più finiscono e perché dici che si lascerà con Fedez? perché quelle coppie lì come io lo dico tutti come sono stati Petrelli e Salemi come sono stati ai tempici quelle coppie lì che basano la loro storia sulla mediaticità quindi raccontando la loro vita insieme se poi lui si fa due calcoli lui non ha fatto questo lui è ancora uno che vuole arrivare nel momento in cui lui se tu vedi lui oggi sta facendo una comunicazione i siti del cazzo ma ormai anche il Corriere della Sera è un sito del cazzo scrivono si sono lasciati non postano più insieme e robe varie però lui ha spostato una comunicazione in un modo particolare incomincia a fare politica poi Muschio Selvaggio incomincia a ospitare casi lui ora fa i casi di attualità quindi fa Aldo Grandi fa i casi di cronaca alterna però sì no fa l'Orlandi nell'ultimo mese da quando è successa la cosa non fa si ha fatto rondo ha fatto rondo evita ma l'ha fatto ma ora negli ultimi casi ha invitato quello con la gamba mangiata dallo squalo quello perché l'ha invitato per andare contro la Lucarelli pensa che follia però vedi l'altro giorno non so come noi l'abbiamo scritto io l'ho scritto su Dillinger posta una storia invita Saviano cioè anzitutto Saviano che coraggio e che faccia hai per andare da Fedez e parlare di un progetto con Fedez ora secondo che cosa c'entri ma loro penso sono molto amici hanno un rapporto di lunga non sono molto amici Saviano è il più grande paraculo che esiste sulla faccia della terra e sa che li porta che li porta visibilità ma la coppia Fedez-Saviano è una coppia imbarazzante cioè vabbè questo è questa non è la mia profezia io sono convinto poi tra due anni ne parleremo che la storia finirà e che comunque lei non potrà mai più essere quella di prima e credo che questo lei l'abbia capito infatti se vedi la sera con la famiglia con le figlie credo che sia attraversando e questo mi dispiace un periodo di crisi impressionante perché oggi chi ha mille follower tre mille follower l'abbiamo visto nel caso tu non ne vuoi parlare non lo citiamo nel caso insomma della ristoratrice che si è suicidata l'impatto dei commenti o della mediaticità ti disturba assolutamente l'umore la persona c'è gente che se posta una storia magari c'ha 30.000 follower ne perde 2.000 al posto di fare 5.000 visualizzazioni alle storie ne fa 1.000 vai in crisi te pensa una che è diventata Dio e che di colpo non la segue più nessuno deve bloccare i commenti perché sennò la riempie di insulti è storia di 4 giorni fa provi a testare una volta questa strategia questa è una cosa intelligente che ha fatto io dico io i miei contratti con i brand importanti le sfilate non le abbiamo viste in nessuna parte Dior Valentino Gucci non li taggo per evitare in questo momento allora taggo un albergo X che mi ospita e un sottobrand massacrato massacrato hanno dovuto rimuovere il post hanno dovuto rimuovere il post mi dispiace perché sì è assurdo mi dispiace la gente gode poi c'è quella roba lì che l'odiatore gode è assurdo come ci vuole tanto tempo per crescere e un secondo per affondare ma è stato un errore che non puoi permetterti secondo me è arrivato a quei livelli comunque non puoi permetterti e lo paghi secondo me l'unica cosa sarebbe veramente il tempo è l'azione nuova e il passare del tempo il silenzio è una nuova azione che fa dimenticare quella vecchia cioè quindi tu devi capire che hai sbagliato e non è che devi fare il video do un milione in beneficenza cioè lì ha l'errore scompari un anno fai passare il tempo scompari evita comunque il fatto che hai detto che insomma la procura avrà magari per i rapporti che può avere con la Meloni ora non lo so queste sono state le tue affermazioni potrà avere una ci potrebbero essere spinte ma la procura di Milano ci mette attenzione poi c'è l'indagine vabbè certo anch'io quando mi hanno rinviato a processo nel 2007 con Vallettopoli la mia era un'associazione delinquere finalizzata all'estorsione ma l'associazione delinquere non esisteva infatti sono andato in un carcere di massima sicurezza potenza è caduta immediatamente anche lì per adesso è indagata è un'indagine quindi è importante in questo paese altro che muscolo selvaggio qua stiamo andando davvero ma perché ci sono io allora esiste ricordatevi la presunzione di innocenza quindi la Ferragni è innocente fino a una condanna con sentenza definitiva dei terzi gradi di giudizio primo grado appello a Cassazione quindi lascia per nel caso ipotizzassero un'accusa di reato per associazione delinquere andrà a processo per questo poi magari cadrà però deve fare il processo in integrale il giudizio dal proposito hai visto che quel ragazzo che ha messo sotto un bambino con la Lamborghini ha dato meno anni di quanti ne hai presi te poi fondamentalmente è diventata virale questa cosa ovunque perché è abbastanza ti fa capire tanto della giustizia italiana comunque io non sono assolutamente d'accordo con questa cosa la gente mi prenderà per pazzo io ho studiato il diritto e ho studiato la legge e la conosco benissimo e questo mi ha salvato in questi dieci anni e questo mi ha permesso a differenza della Ferragni di oggi e tu lo sai che lavoro che faccio i progetti che ho quanto le mie società guadagnano quello che faccio 50 anni sono caduto 18 volte in questi anni ho perso tutto rifatto ho perso tutto rifatto è lo stesso caso della Sulis che oggi l'abbiamo vista è il caso di questi giorni la ragazza è manettata in Ungheria viene fotografata c'è un video in cui lei compare con le manette ai polsi e le manette ai piedi allora se analizzi il ragazzo è un cretino perché riprendeva quella cosa lì ma oggettivamente nel reato ok lui che cosa fa fa un reato legato alle violazioni civili del codice stradale quindi ha la patente affitto una macchina guida una macchina che non può guidare perché è troppo grossa bravo grazie scusami scusami va tenuta questa questa va tenuta questa va tenuta sai che cosa vuol dire questo sai che cosa vuol dire questo questo vuol dire scioltezza velocità questo deve diventare virale questo è il bacio di Gurugano sei pronto? sai come si fa in Sicilia? guarda 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 per caso che ce l'ho sulla finestra guarda riprendi zooma qua sì in reato civile però insomma fino a un certo punto lui faceva non è stato volentiale sì ma H24 sveglio per quel format ma ci sono le leggi te devi rispettare il codice penale lui non prende 4 anni 4 mesi lui patteggia il patteggiamento prevede uno sconto di due terzi della pena il patteggiamento te lo deve dare la procura la procura ti dà il patteggiamento quindi la sua pena non è di 4 anni 4 mesi la sua pena è di circa 8 anni ok col patteggiamento grazie al patteggiamento che decide il pubblico ministero e il giudice di dartelo se ci sono delle attenuanti generiche ovvero il fatto che è giovanissimo il fatto che è incensurato il fatto che non aveva precedenti il fatto che non era sotto l'effetto di alcol che non era sotto l'effetto delle droghe ma la stanchezza quella è la pena è dittale purtroppo del reato che ha fatto è la pena è dittale per la prima volta hanno applicato la legge e non si sono rifatti oppure non l'hanno condannato per un istinto di mediaticità o di moralità ti porto un altro esempio i fratelli bianchi quei due decerebrati muscolosi tatuati zingari chiedo scusa le zingari che sono amici miei che hanno ucciso Willy quello di colore in primo grado prendono l'ergastolo storia di Fabrizio Corona quando prendono l'ergastolo e dico tutti che gioiscono buttate la chiave dovete morire io dico la pena è sbagliata perché la pena è assolutamente sbagliata perché loro devono prendere vent'anni perché quello non è un omicidio volontario perché tu ho capito che sei grosso e picchi un ragazzino ma non lo picchi con la volontà di uccidere perché la legge è quella roba lì e infatti in secondo grado in Cassazione hanno preso vent'anni e le hanno abbassato la pena di dieci anni cioè la pena non può essere in base all'indignazione del popolo o perché una roba è famosa spesso però abbiamo visto essere così però sì non dovrebbe essere faccio un esempio il caso più assurdo lasciamo la stagia di erba più che più complesso ma se prendi il caso di Stasi e dell'omicidio Chiara Poggi Stasi non lo puoi condannare a 15 anni o lì Tyler Gastolo o lo assolvi torna torna invece ti volevo chiedere un'altra cosa cosa ne pensi di Sinner che ha detto di no a Sanremo secondo te l'ha fatto per una sorta di vendetta nei confronti della Rai che comunque si sa non ha dato in chiaro quella che è la finale di Melbourne oppure no io credo che Sinner sia un un prototipo di essere umano e di sportivo assolutamente fuori dal comune io come tutti mi sono appassionato al tennis grazie a Sinner e l'ho guardato mi piace studiare le persone credo che lui sia nato proprio geneticamente in questo modo cioè abbia delle qualità umane morali di serietà di concentrazione che lo porteranno ad essere il numero uno e che a differenza di quell'altro non dico una parola ma che lo penserei c'è la differenza di tra Sinner e Berrettini che aveva delle qualità è tutta lì è la testa il carattere il cervello i valori è tutto quello che hai dentro Berrettini sono un po' perso Berrettini uno che va con la sat e smette di giocare a tennis meglio non mi coerere la propolaccia evito qualsiasi commento ma credo che lui sia proprio così io ho un un ecoregista famosissimo che lo ha seguito che lo conosce molto bene e praticamente lui aveva una storia serissima con una ragazza nascosta a un certo punto questa storia questa ragazza un giorno innamoratissimo fa una storia questo un anno fa Instagram e lui non se ne accorge la posta taggandolo lui la lascia immediatamente poi se ne va con un'altra questa torna gli dà un anno di purga ora è ritornata ad essere la sua fidanzata cioè ma uno come lui ti faccio un esempio che vogliamo farli due count in tasca dai tra i vari cinque sponsor che ha oggi dopo la vittoria di Melbourne li avranno prendiamo prima della vittoria di Melbourne Nike Gucci Caffè Lavazza Intesa San Paolo Intesa San Paolo Fastweb Fastweb Caffè Lavazza cioè quindi prima della vittoria di Melbourne io credo che quelli sponsor siano intorno ai 10-15 leva Nike Nike gli ha fatto un contratto 150 milioni decennale ma prima 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 15 milioni di euro l'anno 15 milioni di euro l'anno ma prima perché aveva creduto in lui 15 milioni di euro ma è una Nike una Nike lo sapeva lo vedeva ora questi triplicheranno ovviamente perché stiamo parlando di Fastweb di Caffè Lavazza stiamo parlando di Gucci stiamo parlando di brand assurdi uno che ti dà una visibilità pazzesca uno così giovane pure bello poi si fa prendere non si compra una macchina non si compra un orologio non è andato a festeggiare qualsiasi uomo di 22 anni non ce la farebbe noi abbiamo come esempio i calciatori di oggi che sono una massa di coglioni ce l'abbiamo visti che giocano tutto il giorno nella Playstation chiamano le puttane e scommettono al gioco lui è il prototipo dell'essere perfetto poi uno come me a essere come lui si suiciderebbe vabbè a ognuno suo a ognuno suo ma vince la finale di Melbourne addio ma porco bip ma vai obbracarti insieme a 100 troie fai festeggiare sei d'accordo con me? no lui no anzi devo tornare a lavorare ma lui cosa gliene frega andare sulla Rai al festival di Sanremo cosa gliene frega cioè non gliene frega perché Gucci non ha come la Ferragni bisogna dirlo vai alla Rai che vai su Sanremo che ti metto Gucci no però è quello che lo farà diventare il numero uno è come Djokovic Djokovic ha una è un robot un alieno io guardo nella mia vita sai come sono fatto te mi conosci molto bene e te sai bene nella mia storia io proprio non ho paura di nulla non mi emoziono su nulla questo da quando sono nato in televisione a me nella mia vita ho incontrato chiunque al mondo attori chiunque pure Brad Pitt David Bowie ho fatto serata con Tupac qualsiasi cosa io ho visto due uomini che mi hanno mandato delle emozioni prima stato Silvio Berlusconi la prima volta che l'ho visto mi ha mandato delle emozioni mi sembrava un po' pazzo non lo so io li volevo bene è una persona che stimo a livello imprenditoriale poi ditemi quello che volete ma la prima volta che lo vidi mi fece un'impressione pazzesca la stessa roba di Djokovic quando l'ho visto mi ha trasmesso qualche sensazione strana tipo? tipo di una persona molto sicura di una persona molto potente lui è uno che viene dalla guerra cioè lui è uno che crede veramente in quello che fa e ha una determinazione data da un riscatto del valore del suo paese e da un impegno che mette in tutto quello che fa e comunque è diverso da Federer da questi qua è uno che è tanto di cappello c'ha 35 37 anni c'ha due coglioni quadrati così ma chi hai fatto serata con Tupac? questa la devi raccontare era te lo dico subito era il 92 io ho fatto serata con Tupac e DiCaprio prima una volta con DiCaprio DiCaprio aveva la mia età io avevo no era il 91 io avevo 17 anni Milano non era Milano così era la città più bella del mondo come dire New York quindi le grandi feste della moda venivano a Milano i grandi stilisti erano tutti a Milano nella patria di tutti i fotografi internazionali a Milano la settimana della moda a Milano veniva da tutto il mondo fatto sta che una volta ho fatto serata all'all fashion di DiCaprio che era giovanissimo che faceva il modello per Armani pensa te io facevo il modello facciamo parlando del 90-91 io avevo 16 anni DiCaprio anche lui lì era giovanissimo e una volta andai a 17 anni a una festa bellissima me la ricordo e ho anche qualche foto la vedrete in un documentario andai a una festa all'ippodromo oggi si chiama in un altro modo a Milano la festa di Versace c'era Gianni tutti ubriachi alle 5 del mattino c'era Tupac che ballava a torso nudo con me insieme a Trefighe ma non era ancora Tupac era Tupac in quella fase lì vabbè ho capito però ho fatto serata con Tupac assurdo siamo quasi alla fine voglio farti come dire che te hai fatto serata con Rondo Sosa è uguale salutiamo Rondo ciao no per carità fa anche lui un bel pipo no è particolare no ma prendi 69 non c'è un paragone poi magari oggi Trevis Scott sì però non è Trevis Scott lo dobbiamo ammazzare per diventare Trevis Scott l'idolo dei miei tempi è Eminem forse for mai ricollonito ho bruciato senti come vedi Mediaset che hai citato Berlusconi dopo la morte di Silvio la vedo molto male la vedo molto male spero andiamo in onda prima lo mandiamo questo pezzo prima dell'8 aprile sì sì e quindi dico che la scelta per esempio folle di far condurre l'isola dei famosi a Vladimir Luxuria con un opinionista un'altra giornalista tipo la Buon Amici è una roba che non sta né in cielo né in terra le scelte editoriali a parte quelle giornalistiche perché l'idea di trasformare in una rete giornalistica Mediaset è un'idea ottima con tutti i programmi giornalisti che ci sono che vanno bene il resto è un disastro non ce la faranno con i conti io sono convinto che nei prossimi quattro anni tutto si sposterà sugli OTT che sono gli over the top che sono Netflix Prime Amazon e quella roba lì ce ne saranno di nuovi Disney Paramount comincerà a crescere Sky Discovery la Fagnani non è voluta andare da Discovery con un'offerta pazzesca perché poi a lei non interessano i soldi interessa veramente il contenuto però Mediaset morirà la 7 bisogna vedere che fine fa Cairo esisterà la RAI e poi ci saranno i broadcaster questa sarà la televisione Mediaset è destinata a essere venduta all'estero e diventare una rete normale quante profezie stai dando oggi una marea e ti dirò che tutti i personaggi che vorranno lavorare faranno molta molta fatica perché adesso abbiamo il blocco del Dister ma per colpa della legge Ferragni che crea molte problematiche i fuffaguru sono morti perché sono indagati era l'ora era l'ora hai sponsorizzato qualche fuffaguru basta che pagano l'esualità la fanno loro la beneficenza come ho descritto il post la faccio a me stesso e credo che un personaggio per diventare un personaggio ci arriverà attraverso altre cose perché ci faranno molta fatica a proposito di fuffaguru entro un attimo ti faccio qualche domandino ma parlando lì non è pubblicità ingannevole ma lì ho reato il problema che perché la procura cioè ora la roba del nodo Ferragni cioè della legge Ferragni si chiama così non si chiama legge Ferragni ma è soprannominata legge Ferragni sull'ADB ha cambiato ormai Instagram sia dei piccoli o dei grandi o chi fa pubblicità tra parentesi che non era molti lo fanno l'80% te lo sai lo fanno in nero perché pagamenti tramite post pay questa roba qua ogni singolo influencer non paga le tasse cioè ti ricordi i primi youtuber i primi influencer che guadagnavano ne beccarono uno ma lì abbiamo abbiamo almeno non so che ti posso dire 50-100 milioni 200 milioni di tasse di più ma anche di più miliardi di tasse da recuperare e quindi adesso li ha regolarizzati lo Stato non c'è arrivato lo Stato non guarda il fuffaguro fino a quando non c'è una denuncia o fino a quando non c'è adesso un movimento come quello giornalistico che sta indagando perché l'hanno fatto le Iene lo fanno i programmi di Rete 4 ma perché lo fanno i programmi di Rete 4 le Iene perché oggi è una roba che tira l'attenzione perché lo stesso ragazzo che viene attirato dalla tua pubblicità investe i 1000 2000 euro 3000 euro con un finanziamento per pensare di diventare ricco ma non lo diventerà mai perché è una truffa vera e propria è lo stesso che poi guarda l'inchiesta e si schifa e quindi fa share ma lì è la procura che dovrebbe andare al passo dei tempi e non ci arriva poi questi hanno società all'estero quella roba lì quindi vuol dire fare arrogatore internazionale beccarne uno con tutti i problemi che ci sono vanno a pensare a 40 sfigati però c'è stato un momento te lo sai guarda che c'è qualcuno di questi 40 sfigati che fa soldi veri tanti c'è stato un momento non so se ne è notato da settembre a dicembre che una trentina di questi investivano una marea di soldi ora sono tutti fermi probabilmente qualcosa sta a posto a posto Fabri grazie mille hai lanciato delle mine pazzesse Marco lo sai che ti voglio bene questo podcast ormai è una garanzia in un'istituzione seguitelo perché non è come gli altri ma non ridere mentre lo dice ora voglio dirmi una roba io ormai lo faccio per amicizia con lui ma perché abbiamo dei rapporti anche lavorativi non esterni perché io non vengo pagato per essere qua però lavoriamo io faccio le cose soltanto per guadagnare quindi con lui ho dei rapporti lavorativi a me mi chiama sempre il mio amico Luca Casadei ok ora ci sono due podcast li chiamiamoli così mi piace dirla questa cosa qua due podcast radical chic poi magari non lo mandi in onda c'è One More Time che l'ha preso ormai Radio DJ va su Repubblica c'è Luca Casadei un amico mio da 30 anni con questa voce che ti siedi lì lo psicologo e vuole che ti racconti tutta la vita tipo Sgarbi è andato perché si vede che gli avevano detto vai per promuovere il libro dopo due minuti gli ha detto ma porra l'investigna e io ho detto Luca se te mi vuoi mi devi dare un sacco di soldi cosa faccio vengo lì a raccontare la mia vita cosa mi serve mi serve visibilità l'altro è quella roba di gazzoli questo tizio che è sposato tutto fighettino che gioca a basket è tipo un cattellano del podcast che due coglioni qua c'è il tavolo di legno qua ci sono soldi per comprarsi in mezzo paese c'è un tavolo di legno da un euro la parete è di plastica mezzo bello la scritta la scritta sarà costata no no 90 euro eppure questo podcast spacca grande io saluto Luca e gazzoli li voglio bene sono bravissimi ciao Luca anche Luca li voglio bene ciao grazie mille Fabri grazie mille una cena di lavoro ci sentiamo domani per lunedì grazie mille grazie mille grazie mille